Donnaro Migliore che ha un volo per Torino dove appunto oggi pomeriggio ci sarà shock l'iniziativa d'Italia Viva. Comunque volevo fare complimenti a Migliore perché mi sembra dell'opposizione per i discorsi che ha fatto prima, perfetto, giusto, giusto, sull'IVA giustissimo, però state al governo pure voi, non ve lo scontate, mi sembra. No, infatti noi stiamo affrontando il problema, voi avete fatto togli lo scudo, metti lo scudo, togli lo scudo, metti lo scudo, me ne state accorgendo adesso con l'anima del governo del Cinque Stelle. Torniamo dopo la pubblicità, guardate che è una tragedia per un sacco di lavoratori. Ci mancherebbe.